Allora, parliamo un po' dei ragazzi che tra un po' si esibiranno. Chi sono? I Mood. Allora, loro hanno frequentato il mio corso due anni fa e quindi non sapevano anche loro che cosa era il teatro, la comicità, però hanno fatto questo corso. Ah, da zero? Da zero. Io gli ho scritto questo spettacolo che si chiamava Asintomatici e quest'anno ne abbiamo fatto un altro che si chiama Mood, perché loro si chiamano i Mood. E niente, loro faranno un pezzo un po' particolare. Un po' particolare. Un argomento che tutti conoscono, però ormai nessuno ha cercato di approfondire bene. Una parola che secondo me si è sentita dire, era uno dei dieci termini che andavano più di moda ma fino a qualche anno fa, un anno o due fa. Non diciamo niente, li facciamo esibire. Li facciamo esibire. Allora, signori, ecco a voi in live qua su NSL, canale 88, Baldini si nasce, i Mood. Prego. Salve. Oggi siamo noi qui tre riuniti per parlarvi di un argomento molto, ma molto importante. Perché siamo sicuri che la maggior parte di voi non ne conosce il senso, il significato. Perché è solo con il sapere che possiamo affrontare al meglio le difficoltà di tutti i giorni. E infatti stasera siamo qui riuniti per parlarvi... Lo spread, lo spread, termine inglese usato sempre più spesso in ambito finanziario anche in Italia. Lo spread, chi non lo conosce? E chi lo conosce? C'è lo speck, c'è lo spread, poi c'è sta lo spicspan, c'è sta il Dixon. Mastro Linda è così via... Andrea, per favore, lo spread, termine inglese che serva di indicare la differenza di rendimento tra due azioni o titoli di Stato. Ecco, ad esempio, nel caso dei titoli di Stato spesso i titoli di riferimento sono i Bond. Presi famosi da James. James Bond. Sì, 007 che è il previsto da chi chiama da fuori, Andrea. Sento però il bisogno di spiegarmi in meglio. Facciamo un esempio. E fa most'esempio. Facciamo un esempio. La Banca Centrale Europea, la BCE, è presso allo 0,75% delle banche del denaro. Ma ci credi? Le banche che chiedono dei prestiti. Comunque funziona che appunto l'amministratore delegato della banca va appunto alla BCE a chiedere un prestito. Infatti, infatti. Tra l'altro ci va con la busta paga. Ma la loro... No! Ci va con quella degli azionisti. Per questo vengono chiamati azionisti. Perché c'è un giro di azioni. Le famose maggiori azioni. Difatti, se analizziamo il termine azioni, esso indica la capacità umana di modificare il reale. A fine economici, pratici, politici, etici. Sei una sorta di manovra illusoria da giro e intrallazzo. Che se non hai capito tutto questo... Attacchia il cazzo. Ecco. Ora prendiamo ad esempio Unicredit, che usa questi 0,75% per acquistare dei BTP. Buoni del tesoro poliennale. Ora la domanda sorge spontanea. Quanto dovrebbero costare questi BTP? Teoricamente 0,75%. E allora perché vengono venduti al 5%? Ma è ovvio, perché così Unicredit ci può speculare. Quindi gli italiani si distanguano. Perché cosa? Per arricchire dei privati. Uno dice a loro e noi chiamo i privati. Ma non si può, perché c'è la privacy. Per questo si chiama privacy e per questo ci hanno fatto una legge. Perché la privacy è l'ambito gelosamente circoscritto della vita personale, privata. Ora si è creata una grandissima paura dell'aumento dello spread e della possibilità che l'Italia possa dare in default a fallire. Già. E se l'Italia fallisce? E se fallisce? E se fallisce? E se fallisce. E se fallisce? Noi se ne andiamo. Bello, Ivan. Questa, caro mio, è la famosa fuga dei cervelli. Peccato che il suo è da un bel po' che se ne è nato. Se le agenzie di Riding ci dicono che l'Italia è a rischio fallimento, una banca dovrebbe assicurarsi contro un possibile fallimento dell'azienda Italia tramite l'acquisto di un certificato assicurativo sui BTP. Un CDS! Un CDS! Un CDS. Non lo sa nessuno cos'è? Credit default swap! Dunque, una banca che sta acquistando un muo del tesoro, in teoria, si starebbe anche assicurando contro un possibile fallimento dell'azienda Italia. Una sorta di tarappiata piogo come se fosse Antani con la supercazzola prematurata con scappolamenta a destra. Ma il punto è che nessuna di queste banche compra queste CDS! In pratica, secondo nessuna banca italiana all'Italia sta effettivamente fallendo. Ora, chi dovrebbe vigilare non è scemo, è d'accordo a non farlo, oppure effettivamente scemo, ma, alla luce di questi fatti, lo spread viene utilizzato principalmente per tre ragioni. Uno, per speculare sull'Italia, cioè una ricchezza da portare via. Due, affini politici. Togliamo di mezzo qualcuno che dà fastidio al suo posto, mettiamoci qualcuno che continui a garantire la paura dello spread. E terzo, noi, cari italiani. Che stiamo ancora qua. Ultimissima cosa, ultimissima cosa. Per capire tutto questo, non serve per forza essere dei... Draghi. Comunque io avevo detto spec.